In questo video voglio riscrivere queste tre frasi utilizzando delle espressioni algebriche. La prima frase dice la somma di meno 7 è della quantità 8 per x. La somma, perciò qui avremo un'addizione. La somma di meno 7, meno 7, è della quantità 8 per x, ma la quantità 8 per x è semplicemente 8x. 8x, perciò abbiamo meno 7 più 8x. E la somma di meno 7 è della quantità 8 per x. Passiamo alla seconda frase. Prendi la quantità meno 3 per x, la quantità meno 3 per x, poi somma 1. La quantità meno 3 per x sarà semplicemente meno 3x. Poi dobbiamo sommare 1, perciò scriveremo più 1. E ora l'ultima! Meno 6 più... Possiamo iniziare a scrivere meno 6 più il prodotto di meno 1 e x. E il prodotto di meno 1 e x sarà semplicemente meno 1x, che equivale a meno x. Perciò possiamo scrivere meno 6 più meno x. E questo è equivalente a... Meno 6 meno x. Ecco qui! Provaci anche tu adesso!